Siamo con il Vicepresidente del Consiglio Provinciale Tonino Marcello, però in questa circostanza parla come consigliere comunale di San Salvo. Il suo gruppo e anche lui personalmente, il gruppo di minoranza, ha presentato una mozione che è stata approvata in Consiglio Comunale e che sta ovviamente suscitando notevole dibattito politico. La mozione ha deliberato la revoca dei due rappresentanti all'interno del porto turistico. Per la verità, una mozione simile l'avevano presentata già a maggio ed era stata bocciata per un voto. Questa volta invece è passata con un voto in più, cioè ha ottenuto i sette voti del centrodestra contro hanno votato i sei del centrosinistra che quindi sono andati in minoranza, ma sono stati decisivi le astensioni di Ditoro e Cinali che già si erano astenuti a maggio, di Rossi che non c'era, di Palomba che a maggio si era astenuto e che stavolta non c'era, ma a questi si sono aggiunte delle astensioni e delle assenze di Bernava, di Carlo e Cupaiolo. Quindi il fronte contrario si è arricchito di altre persone da adesso a maggio, perché lo sappiamo, ci sono stati le cambiali, c'è tutta una situazione particolare, però c'è anche una soluzione individuata dall'amministrazione comunale. Parliamo di questo con Tonino Marcello cercando di esaminare sia gli aspetti politici dell'ultimo consiglio e della mozione che è risultata vittoriosa e sia, se lui se la senta, anche degli aspetti tecnici circa la soluzione individuata. Sì, innanzitutto ringrazio per l'opportunità, è stato un successo per la prima volta per il centrodestra, che dopo varie emozioni è riuscita a spuntarne una, ma soprattutto non voglio parlare neanche di vittoria, in questo caso del centrodestra, ma del grande senso di responsabilità degli amministratori del centrosinistra, cioè di questa maggioranza che governa questo comune. Questa maggioranza per la prima volta ha dimostrato un senso di responsabilità maggiore perché i fatti lo dimostrano, c'è un certo indebitamento del porto turistico con una gestione di questo CDA che io non voglio neanche attribuire le responsabilità al CDA perché ci dobbiamo ricordare che il CDA è nominato dal sindaco e queste responsabilità io le rimanderei al mittende, proprio al sindaco, perché se si è arrivato a questa condizione e per una sua sciagurata gestione perché fa delle previsioni senza tener conto di quelli che possono essere i momenti storici, la crisi, quello che può essere il costo per realizzare un'opera e non si rende conto probabilmente che si poteva e si è arrivato a questo punto mettendo in difficoltà l'intera società, le Marinelle, con ovviamente il CDA. Per arrivare a firmare delle cambiali l'atto è abbastanza grave perché un CDA che rappresenta un comune firma delle cambiali al nome di una società partecipata non è una cosa che succede tutti i giorni, non è una cosa bella. Quindi questo è il primo punto importante. Poi ribadisco, c'è stato un grande senso di responsabilità dagli amministratori di maggioranza perché hanno accolto la nostra mozione, l'hanno capita, l'hanno condivisa. Ovviamente non l'hanno votata con noi, però con l'astenzione ci hanno dato un forte senso di responsabilità per quello che abbiamo fatto. Su questa vicenda vorrei anche tranquillizzare i diportisti perché noi non abbiamo chiesto nient'altro di quello che ci spetta fare, c'è la revoca del CDA e di individuare eventuali responsabilità su questa situazione che penso che sia il minimo che possiamo fare come amministratori di minoranza perché la cittadinanza non si deve trovare ad affrontare delle spese se non è parte in causa di questa situazione. Quindi questa cosa è molto importante su questo fronte.